Siamo convinti che non si possa pensare a un progresso e un'uscita dalla crisi che non tenga conto dell'economia ecosostenibile. Pertanto avviamo il nostro percorso con questa prima giornata nella quale abbiamo invitato alcuni interlocutori istituzionali e alcuni studiosi, i quali ci racconteranno da una parte le variazioni climatiche e quello che riguarda tutto il ciclo del riciclo della spazzatura e quindi tutta la nettezza sia urbana che industriale. Parleremo di ecosostenibilità e di città vivibile e poi pensiamo di far partire con il ritorno dell'autunno una serie di incontri perché il nostro obiettivo è quello di saldare questa azione con quella dell'associazionismo dedicato ma anche con i cittadini quali devono trovare nel sindacato una rinnovata attenzione per i temi della sostenibilità sia a livello umano che del lavoro che dello sviluppo socioculturale non solo del nostro territorio ma globale con un'idea di crescita che non possa vedere differenze e accantonamento delle risorse nelle mani di scocche e di scatolo di tutti gli altri.